Io lo so che tra quelli che guardano questi video c'è ancora qualcuno che vi fuori un po' di bene. Aiuto. Fa freddo. Sta nevicando da stamattina, c'è tanto di neve strada e sono le sette del primo novembre. Ho provato ad andare da casa mia al centro. Non è il fatto che solo facendo il giro dell'isolato mi sono vettito completamente di neve e non ho potuto prendere strada. Perché ero un essere assolutamente tenicolo. Forse il cappotto non è il giubbotto adatto per la neve. Forse no. Come qualcuno potrà vedere mi sono tagliato i capelli. Sto per avere un gatto. E' tra un giovane gatto nella mia vita. Stiamo discutendo sul colore. E dico stiamo perché le discussioni sono con una cameriera della Rispalda locale. Evidentemente deve essere una qualche perfezione legate anche alla magliettina nera con la scritta Guinness. Perché io non ce la faccio a non andare a prendere risparmio e non cercare di... Eh, beh. La giovane franciulla, tanto tanto carina, mi sta aiutando a trovare il gatto. Così. Sono rientrato in periodo di Griffin. Mi sto riguardando tutti gli episodi di Griffin. Ho visto anche il film di Stewie. Segnale. Ho scoperto ieri per caso di avere un esame l'ultimo di novembre. E non l'ho aspettato. Il mio guido di aiuto è dato da affatto che mi serve denaro per comprare un ciubbotto nuovo e delle scarpe nuove. Perché se il cappotto non va bene per la neve, forse anche le Logan non sono le scarpe imparate della storia. Pesso quelle... E quelle che mi sono portate. Mi sono cucinato una pasta alle 4 e mezzo. Mi sono fatto un piatto di tene della piatta. Poi sono rimasto un po' deficiente uscendo di tempo alla finestra a guardare la neve che cadevano al cielo. Perché, caro ciccio, non avremo la luna, neanche la neve si difende. Sono sanificano, sono una buffetta. E' bellissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.